La musica ci ha spiegato come si fa l'amore, per esempio, credo che nessuno di noi possa negare che la musica abbia avuto un senso nell'aver capito, o meno, speriamo che molti l'abbiano capito, com'è che si fa l'amore. E questa non è contemplazione estetica, è un insegnamento molto importante e lo possiamo dire su tutto. Allora, queste isole felici possono avere l'effetto placebo, il rischio grosso, ma sono anche isole in cui si sperimentano, e si sta tornando oggi a farlo, dei modi di vivere diversi. E allora, chissà che queste isole non siano isole che poi rimangano come mondi che hanno un significato, anche forse chiuso, chissà se potrai rompere nel continente, ma intanto però sono mondi in cui forse è bello abitare. La musica ci ha spiegato, anche per la musica di vivere diversi. La musica di vivere diversi. La musica di vivere diversi.